Hi guys, benvenuti in questa nuova puntata dell'analisi del mio portafoglio di Yungo Termine. È un'analisi per chi non mi conoscesse che porto settimanalmente, solitamente nel weekend, dove vado a fare un recap del mio portafoglio di Yungo Termine. Cosa vado a comprare, cosa vado a vendere, che performance sta facendo negli ultimi sette giorni e vari altri media molto interessanti e potrebbero servirvi per andare a vedere come comportarsi all'interno del mercato. Ovviamente non sono mai consigli finanziari, è soltanto quello che sto facendo io qui e vi invito a prendere questo video come ispirazione. Ma ispirazione nel senso che vi invita poi ad approfondire un progetto e voi tirate poi le conclusioni se potrebbe essere un progetto che secondo voi potrebbe performare. Non è che se io le stengo io all'interno del portafoglio, allora per forza dovete andare ad acquistarlo. Detto ciò ragazzi, come potete vedere, negli ultimi 24 ore abbiamo una performance dell'1.75%, che fa incrementare il mio portafoglio di circa 1.800 dollari. Abbiamo il mio portafoglio che ormai ha superato i 100.000 dollari e c'è una variazione proprio all'interno del mio portafoglio, come andremo a vedere, a brerissimo. Abbiamo un all-time profit, ovvero dal momento in cui ho investito in questi ultimi asset che, per chi non lo ha deciditi, andremo a vedere lì a brerissimo. Abbiamo una performance del 188% con un all-time profit di quasi 70.000 dollari. 70.000 dollari di guadagno. Abbiamo ovviamente come best performer Bitcoin, che mi porta un 283% di performance positiva più 54.000 dollari. Ma andiamo a vedere come è distribuito il mio portafoglio, ok? Una volta appunto aver visto le performance dal momento in cui ho registrato, l'ultimo sette giorni, eccetera, eccetera. Allora, come potete vedere, Ethereum sta prendendo sempre più terreno rispetto alla scorsa puntata. Per chi fa che vediamo come Bitcoin ha più di un 70% di peso a livello del mio portafoglio per quanto riguarda l'allocazione, ma adesso è sceso un pochino del 68,42%. Questo per ben due motivi. Di più motivo che ho scaricato l'EG e MIMP, una posizione di Bitcoin. Infatti vediamo quanto abbia venduto 0,04. Bitcoin aveva soli di 66.958, praticamente a 67.000 dollari, perché ragazzi è sempre bene andare a prendere un pochino di profitto e soprattutto, guys, sono ancora dentro con 1.05 Bitcoin. Vediamo come ho venduto una quota di 678 dollari, ma siamo ancora sulla barca. Come ho detto prima, 1.05 Bitcoin acquistati a un prezzo di 17.550. Bacco, vedi, dicevo, per gli emotivi Ethereum ha preso più terreno rispetto a Bitcoin un po', perché ho scaricato questa piccolissima porzione del mio portafoglio. E soprattutto perché Ethereum, nel stesso tempo, nel frattempo in cui Bitcoin è sanito negli ultimi sette giorni dell'8.15%, Ethereum ha raddoppiato le performance, vedendo appunto una performance negli ultimi sette giorni di circa il 15%. Infatti, attualmente, nel momento in cui sto gestando, abbiamo Ethereum quasi sui 4.000 dollari, orientato a media a 1.790 e questo porta il mio portafoglio a crescere del 120, dico, a 35% nella roba aziale Ethereum, con una performance di più 8.600 dollari rispetto all'investimento iniziale che è quotato appunto a un average buy price a 1.790, come ho detto prima. Poi ho mostrato una cosa interessante, ovvero le performance di Torchain. Torchain, che nell'ultime 24 ore ha guadagnato un 35,64%, il che porta il mio investimento proprio in quest'ultimo asset a incrementare, dal momento in cui sono entrato nel mio prezzo medio, di un 239%, con più 1.100 dollari sul mio investimento. Non male, dato il fatto che ho 199,5 per une. Tendenzialmente, se andiamo a vedere le performance negli ultimi sette giorni, abbiamo come top performer Kira di Injective Cut, Snack. Questo perché, vediamo come, se andiamo su CoinMarketCap e frittriamo per un basket che prende in considerazione soltanto le top meme token, abbiamo visto che abbiamo un incremento delle meme coin dell'8,87%, nonostante il fatto che abbiamo un trading volume in decrescita nella giornata di oggi. Infatti, diciamo che tutte le meme coin sono salite negli ultimi giorni. Infatti, vediamo come Dogecoin ha appreso il 36%, Shiba Inu 150 euro per 100%, e siccome io detengo delle altcoin ultra spigolative, con ovviamente pochissimo capitale dentro, Snack, per esempio, ha soltanto 397,5 dollari, e abbiamo Kira di Injective Cut, soltanto 96 dollari, comunque sia, vediamo come, insomma, tornati in profitto rispetto agli scorsi video, e infatti questo mi porta ad avere una performance positiva sia su sette giorni che, ovviamente, anche sul mensile. Per quanto riguarda sette giorni, vediamo come siamo passati da una cifra di 96.000 dollari, 96.224 dollari, a una quota di 103.000 dollari, quasi 10.000 dollari in sette giorni, precisamente 7.500 dollari di performance che il mio portafoglio è cresciuto, nonostante la mia liquidazione di Bitcoin, o anche se in piccola parte, e questo negli ultimi sette giorni, non male, direi. Vediamo come negli ultimi sette giorni abbia portato possibilità nel mio portafoglio anche BNB. BNB che negli ultimi momenti si sta vedendo sotto riflettori per quanto riguarda il Launchpad, un Launchpad molto, molto interessante. Da pochissime ore è online il Launchpad di Aebo su Binance. Sapete bene quanto i Launchpad o i Launchpool che si creano su Binance siano un'opportunità, molte volte importante, per andare ovviamente a esporsi al momento del lancio, nella fase primordiale, all'interno di un nuovo progetto, progetto permettente, perché infatti stiamo parlando di Aebo. Aebo è un exchange descentralizzato che è focus nel mercato delle opzioni e del perpetual trading. È un DEX che gira sulla Aebo Layer 2, che è appunto un Ethereum Rollup basato sullo pistacca. Che funzionalità ha Aebo per quanto riguarda il DEX? Ha funzionalità di Governance, ovvero tutte quelle persone, gli odori di Aebo che hanno la possibilità di votare all'interno del network, nuovi listing e general DAO Governance, cioè vuol dire appunto decidere su vari cambiamenti all'interno del protocollo. Inoltre dà la possibilità di mettermi in staking, infatti tutti quegli utenti che lo mettono in staking hanno la possibilità di avere un nome in sotto, uno scontro sui trading fees per operare all'interno del mercato delle opzioni e del perpetual trading utilizzando il DEX di Aebo. Poi abbiamo un boost per quanto riguarda le reward del reward program. Poi abbiamo varie informazioni interessanti che vi invito ad andare ad approfondire al market delle metri di FIAB, infatti abbiamo un Binance Launchpool start date che è di oggi, 8 marzo 2024. Come si fa a partecipare al Binance Launchpool? Molto semplicemente, ovviamente dovete essere iscritti a Binance. Se non lo siete, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Avete un sacco di promo, addirittura anche 100 USDT di trading bonus. Tra l'altro, fuori reward del fatto login, andate su altro, cliccate su Launchpad e Launchpool, e come potete vedere vi uscirà questa sezione, la sezione dedicata alla Aebo, che è appunto il DEX di cui parlavamo 30 secondi fa. Vi chiamo come, c'è due modi di partecipare, o attraverso la pool di FDUSD, che è una nuova stablecoin adottata appunto la Binance, o attraverso la pool di BNB. Ovviamente fate questo switch. Io sto a partecipare attraverso la pool di BNB. Una volta avrei i fondi, dobbiamo andare a cliccarmi a Finstaking, e poi ovviamente partecipiamo a questo Launchpad. Qui abbiamo tutte le informazioni più interessate per quanto riguarda il Launchpad di Aebo. Abbiamo per esempio i periodi di farming, le compense gemellie del pool di Aebo, eccetera, eccetera. Ragazzi, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. I miei ultimi sette giorni, diciamo come Polkadot si è incrementato dal 22,77%, portando una performance sul mio portafoglio del 75,73% dal momento in cui sono entrato, con un profitto di 558 dollari. Ovviamente siamo guardati del profitto realizzato. Anche qui comunque abbiamo Solana, che ne porta un 9%. Quant ritorna comunque sia quasi in positivo. Siamo soltanto sotto dell'11,81%, decisamente meglio rispetto a 2-3 settimane fa. Infatti, se andiamo a prenderli l'attico mensile, diciamo che abbiamo avuto una buona performance, una buona performance, insomma, arrivare all'incincre a 100 dollari fino a 128 quota di oggi. Tutte le altcoin, diciamo, che mi stanno facendo fare delle grandi soddisfazioni. Abbiamo comunque sia sempre le altcoin, che siamo sotto in negativo. Abbiamo il peggior performer, che è Cadena, ma anche esso sta recuperando. Infatti, più 26,80% delle ultime 24 ore. Ragazzi, ne ho dimenticato di aggiungere un nuovo asset, che in realtà ce l'ho già da diverso tempo, per quanto riguarda il settore delle namecoin. Adesso qui metterò in sovrappressione, magari ovviamente per essere tutto esparmente possibile, le performance e soprattutto la dapa di acquisto per quanto riguarda Cocchino. Cocchino, stiamo parlando di una memecoin, che anche essa sta facendo un 105% negli ultimi sette giorni. È vero il fatto che sono stato parecchio sott'acqua, ciò vuol dire con una perdita non realizzata, ma adesso siamo portati in profitto di 236 dollari, con una performance del 60% rispetto al momento in cui sono in plato. Guys, siamo arrivati alla fine di questo video. Mi raccomando, facciani sapete qui sotto nei commenti. Se voi siete in profitto con il vostro portafoglio di lungo termine, se avete intenzione di scalare delle posizioni per quanto riguarda le vostre locazioni in Naftcoin o Bitcoin, lascio il link per iscrivervi a BingX, che è un exchange numero uno che io sto utilizzando per fare trading attivo sui mercati. Infatti avete la possibilità di acquistare materie prime, commodities, criptovaluti ovviamente, Forex, inglesi, un sacco di roba, senza andare a fare l'analitica di documenti. Avete un limite molto molto alto di quelle Evo, tipo 50.000 dollari al giorno, di che non è affatto male. Vecchi percenti di sconto sui Rittering Fizz, tutti i link in descrizione. Da Ryan è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Bye!